musica 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 andiamo si va da un'altra parte non c'era nulla qui non c'hanno nulla ma veramente c'è di ogni cosa fammi vedere che ti ha comprato la borsa mi mancava la borsa non ce l'avevo questa ma tu ce l'avevi uguale ma che vecchia e vi mancano anche le scarpe ci ho dovuto ricomprarne ma domenica pomeriggio sono aperti si vuole per fare un giro domenica vai ora si guarda un incominciare certo se domenica fossero aperti si potrebbe andare a fare un giro tanto per vedere che c'è le novità la roba nuova ho pensato ma se si andasse ad un autolette per vedere un po' di creciano c'è gli sconti magari c'è la roba poco eh ma oggi che ci sarà da aperto e se stasera si andasse a mangiare un sushi no sushi 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 stasera sushi oh io e coglioni chiedati io suscio te sushi sushi oi no stasera c'ho dalla mamma a chi capo mamma mia ascolta un facciamo tardi stasera ho fissato per il lotto mi raccomando ha capito? si per il lotto non ce la faccio mi raccomando alle otto puntuali a me anche se si fa l'otto e mezzo non è uguale ho detto al lotto ho detto che stai imbombata ho detto all'otto ho detto